L'anno scorso sono andato al Chelsea e non era in Champions, l'ho fatto volentieri venendo via da una squadra invece era in Champions, quindi non la ritengo una discriminante assoluta, poi vediamo che lo succederà a City perché ora stiamo parlando del primo grado di giudizio, ce ne saranno altri e quindi non penso che quello che è venuto fuori sia la sentenza definitiva, quindi aspettiamo. Però poi ci sono delle situazioni in cui penso un allenatore possa andare anche oltre certe cose.